Minecraft. Ma qua c'è un pulsante. Ultrakill. Un gioco dove devi nutrirti degli altri. In stile modum, ma di 2021, ma molto, molto più figo. E poi ci sono io su Minecraft, con il mod di ultrakill. Quindi ora andremo su Head and Mine. Ok, siamo su Head and Mine. Bello stomp, per scendere più veloce. Siamo con successo su Head and Mine. Spero sincero, i momenti qua sono... Yo! Yo! Melacillo! Yo! Aspetta, c'è l'admin, admin. Cagami, Admin. Andri, cagami. Cagami, Andri! Voglio farti vedere una cosa. Oui! Il livello scuccito. Dato che siamo riusciti a venire su Head and Mine con la mod di ultrakill, cioè qua è Clissim, amico, che lui gioca effettivamente a ultrakill. Combatterò lui, che non sa nulla. E poi, dopo lui, ci sarà Samu. E la persona che mi ha convinto a cominciare a giocare a ultrakill. Comunque, prima che inizia il video, una premessa, non fatelo. Quedo Di fare il video Ho chiesto Punto permesso A Overkidding L'admi di Hermine E mi ha detto Va bene Fai pure E mi ha dato pure questo GMC Woohoo Yo GMC Vabbè Vi lascio al video Ok Ci sono Ci stai facendo Clissi Ah niente Sto sistema del monitor Beh ci sono Comunque Puoi andare tipo Ultra chill Grazie Oh No Non riesco a giocare io Perché di fermi Non lo so Ti sfido a rimanere lì Tutto il tempo Clissi Va bene Sei proprio Un skill di papà Va bene Boom Ok Perché si Ah no Cos'è no Ah no Non vale Non vale Non vale la creativa Non la creativa E che cos'è Non è niente Cos'è Sono normale Tutto normale No è che si Si è proprio un buffone Ti aspetta Stai fermo Stai fermo No aspetta Aspetta Ok Ah Ah Sì Oddio Tu Pum Cos'è Ah è così Ma che non sono in creativa Ma cos'è Guarda Cosa Un attimo Voglio che ci arrivi da solo Cosa No No Poi perché shifti Eh ci arrivi da solo Come ci arrivo Scusa Allora le uniche opzioni Hai detto che sei legit No Sì Quindi non può essere un hack client No Tecnicamente No non è un hack client Ok No Partner Può essere Può essere il partner No No vieni qua vieni qua No 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 vabbè io vado da te Cosa Cos'è È una cosa molto bella Non vale In condizione Ma Da fa Madonna Eclissi Tutti i sogni hanno un significato I miei sogni Aspetta Non riesco a farlo Ma c'è il coso di fortine Quello che sali nei muri No Niente Come funziona Oddio No ok te non sei legit No guarda che non sono gmc Fatti mi vedi mi hit Che cos'è Questa è un aim trainer Bassa Ok Non mi chiesto minecraft Ti hanno dato l'op No Nemmeno No 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 Ah 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 Cari 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 Ma che sto volando Ma che sto volando Ma perchè non ti hita? No, 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 no No, no Ma cos'è? Vieni qua, vieni qua Va bene No, no, no È bellissimo, è bellissimo Ma cos'è? Va bene Ok Che bella giornata Voglio proprio vedere come si gioca contro Velox Ah Ah Non posso cadere No Oh Non posso sprintare però Cosa? Perché no? Cioè, devo disattivare Vabbè, tu non hai bisogno delle Fireball in questo punto Ecco Proprio per niente No No Ma quindi me lo spieghi Hai notato i movimenti che faccio io, no? No Pensa, un gioco che tu premi shift e ti fa fare tipo un dash Ultrakill Non mi dire che è installato una mod di ultrakill Ho il shift di ultrakill ora C'è la god mod di ultrakill pure Mi sta prendendo tu Vabbè Oh Due credi di andare Due credi di andare Due credi di andare Aspetta ti stream un attimo Vedi che è normale? Si Spermo n Pup Non vale Sono iniziato un pochino in India Ed ora Quello che mi ha fatto iniziare a giocare a ultrakill Clearly Samu Comunque Samu vai Ultrakill Vabbè Samu puoi parlare No sto facendo ultrakill Aia Va bene Come scusa ho notato qualcosa di stranto Cosa hai notato? Era un po' boost un po' troppo allontano Un po' boost normale che stai parlando? Ammetti che non avevi nemmeno aiutato il po' boost in te Basta Ho boostato Un po' troppo Hai qualche perciò di più Lo sai Eh Go let's go Eh no C'hai già provato a trollarmi ma riesci Cosa? Non so di cosa stai parlando Sono legit Io sono Benjamin Franklin Samu Ti posso uccidere Un po' boost un po' boost Eh è un po' boost un po' boost Eh è un po' boost un pochettino Sali 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 Aspetta no È un po' troppo eh È un po' troppo eh L'ho detto che non riesci a trollarmi Ma non ti sto trollando Samu sei schizofredo Dai fammi il pregi No ma l'ho scusato Aspetta Samu non puoi scapparmi Eh effettivamente Non ci ho pensato No No Sumo Sumo è bellissimo E con questo No 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 ho finito Dash Vabbè Ma è un comando O è tipo la modificazione Grazie per la risposta Grazie per la risposta Credo di aver capito Ora lascio toggleato Eh voglio dire no Sono legit tutto quanto No No Non so di cosa tu stai parlando Samu Non so di cosa tu stai parlando Samu Ehm 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 Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda Uh quindi non ero nella modica Qualcora Quanto sto veloce Quanto sto veloce Ora sento cosa prova C'è servero quando gli faccio inbox Aspettate fermo Ehm vuoi vedere se posso hitarti con la mano sinistra No Lo puoi Oddio, figo Ti hito con entrambi le mani E sembra che ti sto appizzicando Oddio No Eh, no, non vale Ma Non pensavo mai di morire in un game boxing Mi raccomando, ragazzi Ve lo ripeto di nuovo Non cittate Non fatelo Questo lo ho fatto Solo per il video Non installate la mod di UltraKeyKey Venite ultra bannati Samu Sai come concludere il video? Con la metà tra ragazzi Non ritrovate No Machine I will cut You Down Break you apart Play the goal of the UltraFameform Across the Stars I'm ready to go Now don't die Recommend your controls